Il notaresco sorride, l'Aquila masticamaro. Il match del Gran Sasso d'Italia, turno preliminare di Coppa Italia, si decide ai rigori 0-0 al novantesimo e determinante l'errore di Mantini dagli 11 metri. La delusione dei tifosi rosso-blu è tanta dopo la bella presentazione della squadra. Sarà il notaresco a sfidare i Lecchieti domenica prossima all'Angelini. L'Aquila punta l'indice sulla condizione atletica ancora deficitaria ma nell'arco dei 90 minuti il notaresco di Alessandro Bruno si è fatto applaudire e ha strappato tanti consensi. Andiamo in cronaca con le immagini di Nico Centurame. Pronti via, il notaresco spaventa subito sull'out di sinistra con Bonfiglio. La prima opportunità al minuto 21 è per l'Aquila con Wally che è a campo, cross basso per Banegas che in area però calcia male. Minuto 32, brutto intervento ai danni di Banegas. Giallo per Pietrantonio, in precedenza ammoniti anche Angiulli e Tringari. Trentasettesimo, l'occasione del match per l'Aquila. Fa tutto bacio Terracino, corsa di 40 metri e sinistro perfetto miracolo di Barzanti che salva. Si va al riposo sullo 0-0. Problemi per Berardinelli al suo posto Lorenzoni. Esce anche Lorenzo Del Pinto, qualche fastidio muscolare per l'ex Benevento al suo posto Mantini. Cambia anche Alessandro Bruno dentro, Intinacelli e Di Bartolo per Tringari e Forcini. Sedicesimo, ecco l'opportunità per il notaresco sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Raffaelli sbaglia l'uscita, Ferri da due passi non concretizza. Tanti cambi da una parte e dall'altra. L'opportunità buona è per Banegas in pieno recupero. L'ex giocatore della Cavese prova a fare tutto da solo ma calcia male. Al 48esimo, ecco l'opportunità per il notaresco sugli sviluppi di un corner destro secco di Casella. Il palo salva l'Aquila. Si va ai rigori, il notaresco non sbaglia mai. Decisivo l'errore di Mantini. Domenica prossima sarà Chieti notaresco allo Stadio Angelini. Le impressioni nel post partita dei tecnici Epifani e Bruno. La qualificazione è arrivata ai rigori ma nell'arco dei 90 minuti davvero un bel notaresco. Complimenti. Sì, abbiamo fatto una buona gara. Siamo contenti di aver superato il turno. Abbiamo giocato contro una squadra che secondo me sarà la squadra più forte del campionato. Abbiamo combattuto alla grande. Sono felice per i ragazzi. Merito loro per quello che hanno fatto in campo. Hanno fatto una buona gara. Sono felice. Adesso guardiamo il futuro con felicità e ci prepariamo alla prossima partita. È piaciuta molto la volontà di giocare la palla sempre e di trovare sempre giocatori liberi. Significa organizzazione. Sì, questa è la nostra prerogativa. Dobbiamo sempre cercare di giocare ma senza esagerare. Quando la giocata non c'è andiamo in avanti sui attaccanti. L'abbiamo fatto discretamente bene ma su questo aspetto dobbiamo ancora migliorare tanto. Chiudiamo così. La chiave con cui ha limitato l'Aquila quale è stata? Siamo stati bravi ad accorciare il campo, ad essere sempre abbastanza aggressivi su alcuni giocatori fondamentali come Angiulli. I ragazzi l'hanno fatto bene e quindi gli abbiamo dato poco tempo e spazio per giocare. Secondo me quella è stata la chiave giusta. L'Aquila fuori dalla Coppa ai calci di rigore. Epifani nell'arco dei 90 minuti. Forse i Rossobriano hanno un po' pagato la rapidità, la brillantezza e anche un po' di organizzazione del notaresco. L'organizzazione sicuro ma anche la brillantezza. Loro sono molto più avanti di noi a livello fisico ma per giocatori strutturati in maniera diversa. Li ho visti molto brillanti ma li ho visti già nell'amichevole domenica scorsa contro il Pescara. Hanno già un passo importante da campionato. Noi siamo ancora un pochettino dietro a livello fisico ma con una preparazione mirata. Noi sapevo che stavamo in questo momento in questa condizione. Dispiace per essere riusciti ma andiamo avanti. Penseremo a farci trovare pronte il 10 settembre per il campionato. La questione di condizione atletica o anche un po' arrabbiato per qualche aspetto tattico che non ha funzionato? No, no. Perché poi abbiamo subito pochissimo. Anzi, loro li abbiamo chiusi bene perché sono anche molto bravi a uscire da dietro. Oggi siamo lenti, siamo un po' macchinosi. I giocatori forti, importanti nostri in questo momento hanno una gamba molto carica e quindi non hanno lo spunto e la brillantezza che possono avere quando staranno bene. Angiulli che deve ancora lavorare perché sta un pochettino più, sta indietro. Stefano è rientrato a San Rizzo dopo 20 giorni che è stato, si è allenato pochissimo. Quindi tutto nella normalità. Dispiace solo di essere uscita perché ci tenevamo a mandare avanti per fare un'altra partita per avvicinamento al campionato. Però andiamo avanti, lavoriamo a testa bassa senza farci condizionare da questa sera. L'ultimo Epifani, mercato chiuso, sì o no? Sì, sì, il mercato è chiuso, stiamo bene, adesso dobbiamo solamente recuperare tutti. Speriamo che i due giocatori che sono usciti non hanno niente di particolare. Sono Vanegas? No, no, Bellardinelli e Del Pinto e Lorenzo. Speriamo che niente di problematico e quindi sono le cose più importanti quelle di cercare di recuperare tutti i giocatori al 100% per il 10 settembre.